Allora, professoressa mi ascolti, queste sono le informazioni che deve dare ai suoi alunni. Per prima cosa lavare sempre bene le mani con acqua e sapone. Sì, quel nivole è il punto di partenza dell'influenza. H1N1, stadio 6, è pandemia, vuol dire è casa tua, è casa mia. Ascolta un po' queste mie parole, per imparare a prevenire e a non far rire altro che aspirina. Senti qua, ti do io la rima. Evita le folle e gli spacci chiudi, riduce a braccia e diffusione, anche se amici buoni. Ricambia l'aria nella stanza, vestiti il caldo che non sei vacanza. Distanza, meno metro, d'aspetto, nessun contatto stretto, non uso il fazzoletto. Lo butti sempre dopo, ma nel cestino, non lasciarlo nel cassetto, no. Questa è lezione di prevenzione, lezione di prevenzione. Vieni a lezione di prevenzione, con la mia rima ti faccio prevenzione. Non toccarti occhi, naso, bocca, se hai le mani sporche e stai attento a chi ti tocca. Lava bene le mani con acqua e sapone, fai molta schiuma e nel frattempo conta. 20 secondi almeno prima di risciacquare e col cartamolo uso asciugare. Prima di bere e di mangiare e quando sei tornato a casa da scuola o lavorare. Se hai la febbre, mal di testa, mal di gola, non rischiare, a casa devi rimanere. E se ti sembra che la cosa sia importante, contatta subito contro il medico curante. Detami più e per relenza, per l'influenza, se non sei a rischio, ascoltami, puoi stare meglio stessa. Dai pazienza, tutto sommato sarà solo un giorno che d'assenza. Questa è lezione di prevenzione, lezione di prevenzione. Vieni a lezione di prevenzione, con la mia rima ti faccio prevenzione.